Ciao a tutti! Io sono Federica e questo è il mio nuovo video di italiano per hispanohablantes. Tutto bene? Io sì, tutto bene, con un po' di freddo. Guarda, guarda, quanti strati ho oggi, strati, strati e capas. Bueno, che ho detto, che fa molto freddo e che guarda quanta capa ho oggi, strati, così lo aprendi. Bueno, fa molto freddo, sì è vero. Però bene, sto qui ugualmente per fare questo video, non passa nulla. E oggi parliamo del imperativo, mi dirai tu, però sì, già parlavamo, altrimenti del imperativo, e non dici che, già sta, non faria più video sulle gramatica, però bene, è per aclararti alcune cose. Donde si ponen i pronombres? Perché sì è vero che parlavamo del imperativo, della conjugazione, e se non viste quel video lo puoi vedere in questo enlace. Tambien ti recomiendo che veas il video sobre i pronombres directi, in questo enlace. E sobre i pronombres reflexivi, in questo enlace. Ah, bene, anche sobre i pronombres mixtos, in questo enlace. Ja sta, vale? Bueno, già puoi vedere questo video, se lo viste non passa nulla, lo vas a entendere bene. Però, se non viste aquellos videos, te aconsejo che sì, li veas antes di vedere questo. Vale? Bueno, quindi, che vamos a vedere in questo video. In questo video, vamos a vedere dove si ponen i pronombres directi, dove si ponen i pronombres mixti, e anche quando abbiamo un imperativo negativo, vale? Pues completito, vale? Bien. Quindi, dove si ponen i pronombres directi? Bueno, con il tu, già sapete che il imperativo non ha tutte tutte le persone, è tu, noi, voi e anche voi. Viste, voi. Viste da parte. Vamo a vedere con tu, con voi e con noi, eh? Vale. Quindi, man, già, la, vale? Se la è femenino. Acuérdate che, bueno, solo hai 4, ti ti devi ricordare di 4 pronombres diretti. La, femenino, le, femenino plural, lo, femenino, masculino, singular, e li, masculino, plural. Exactamente. Solo di questo. Quindi, se si se refiere a algo femenino o masculino, singular o plural, utilizzarai uno u otro. Por ejemplo, la mela, mangiala, tu, mangiala. sembra. O, per esempio. Ihbudini, li, Los planes. Mangiateli, mangiate li. Vosotros mangiate, no? Pues, si ha visto il video, vebo la conjugazione, lo saben? Mangia, te li. Vale? Facile, facil,leness. Simplemente detras le ponemos el pronombre directo. Ya esta, así de fácil. Bueno, Il vostè non è così facile, il vostè si pone antes, per esempio, la mangi, la mela, la mangi, o per esempio, la birra, la prenda, sempre delante, si pone il vostè distinto di lo demás, che si le va a fare? Per esempio, la, una torta, mangi, la, mangi, la, mangi. Mangiamoce la, vale? Así entonces pones primero el reflexivo y luego pones el directo, así se pone, vale? O scrivete vela, scrivete, es el verbo, ve a vosotros, vale, la, una carta, por ejemplo, un email, acuérdate que email es femenino en italiano. O vendete llela, llela es el se la en español, vale? En español es se la, pero en italiano es llela, vale? Distinto si lo ponemos delante. Con el usted lo tenemos que poner delante, usted, o sea, ley, claro. Entonces, por ejemplo, se lo mangi, o se lo prenda, vale? Entonces tenemos que poner el se, no el ye, vale? Está claro. Y aquí no está junto, está separado, se la mangi, vale? Bien. Simplemente así, eso es lo que tiene que recordar. El imperativo negativo no es tan difícil como parece, lo único es del tu, acuérdate que es, por ejemplo, non mangiare, vale? Es non más el infinitivo, entonces non mangiarlo, cae la e y ponemos lo, la, li, non mangiar li, vale? Simplemente así, o non mangiar li, funciona exactamente igual, ponemos el reflexivo primero y luego ponemos el directo, vale? Es exactamente igual. ¿Qué pasa con las otras personas? Bueno, con noi, voi, o sea, nosotros y vosotros, por ejemplo, non mangiartela, tu y vosotros. Y nosotros non prendetela, por ejemplo, vale? Ves la diferencia. Entonces aquí, por ejemplo, vosotros non prendete, es exactamente como el afirmativo, pero le ponemos el non delante, mientras que el otro es non prenderla, es el infinitivo. O non mangiamosela, por ejemplo, vale? Es exactamente igual, le ponemos simplemente un non delante. Y también pasa con usted. Non se la mangi. Non se la mangi. Bueno, yo creo que no es difícil, vale? Simplemente, bueno, hay que practicar mucho. Yo te pongo un pequeño ejercicio aquí abajo en la descripción, vale? Pues te recomiendo que lo hagas y, bueno, si quieres y te animas, ponme la respuesta, a ver cómo lo haces y, bueno, pues nos vamos a ver muy pronto en el próximo vídeo. Te mando un beso desde España. Adiós!